Ciao a tutti, eccoci qua come sempre per parlare di cinema, sono Giulio e volevo fare la recensione di un film che è uscito da una settimana esatta e che è Cetto C'è senza dubbiamente, un nuovo film con protagonista Antonio Albanese, di quella che è una sua personale trilogia perché era iniziata nel 2011 con qualunque mente, poi era proseguito con Tutto Tutto Niente Niente, dove in realtà Albanese si sdoppiava in vari personaggi e diciamo, non so se conclude o forse no, chi lo sa, con questo terzo film dove appunto c'è ancora Cetto La Qualunque che però non è più in Italia ma è emigrato in Germania, lì ha ripreso una sua vita commerciale, ha capito le regole tedesche e si è anche insediato, inserito direi abbastanza bene, ma a un certo punto un giorno qualunque torna nella sua amata Calabria a far visita alla madre che sta per morire e scopre di avere delle nobili origini, allora cosa decide di fare? decide di tornare nella politica che l'ha visto protagonista anni addietro importando un sistema politico un po' vetusto, ovvero quello della monarchia e quindi inizia un percorso di addestramento, è il caso di dire, alle regole della monarchia, ai principi della monarchia per poi candidarsi e riportare la monarchia dopo 70 anni. Questa è fondamentalmente la storia di Cetto C'è, senza dubbiamente, che però è un film mi spiace dirlo, mi spiace molto dirlo, ma è un film veramente, veramente debole. è un film debole sotto tanti punti di vista, perché è debole perché la comicità del personaggio, certo, la qualunque è arrivata secondo me alla fine, non ha più, purtroppo, niente da dire. La rivoluzione che vuol portare, ovvero quello di riproporre la monarchia, non è così esagerata, esasperata, assurda come lo è in realtà la politica reale attuale, dove a prescindere da chi, di quale partito si è, di quale schieramento si è, devo dire che la politica degli ultimi 20-30 anni non è che è proprio stato l'esempio, diciamo così, l'esempio da prendere come riferimento, proprio per tutto quello che si è fatto e tutto quello che si è detto e si continua a dire in maniera assurda. Quindi la politica a cui questo film dovrebbe confrontarsi è decisamente più cinica, spietata, violenta, assurda e fuori da ogni logica rispetto a quello che propone il personaggio, eccetera, qualunque la sua idea di monarchia. E quindi risulta un po' fuori tempo, fuori fase e l'umorismo devo dire che langue abbastanza. È un film che, benché duri le sue canoniche 90 minuti, proprio precisi, precisi, l'ho trovato benché tempo poco, un film noioso, purtroppo noioso, con un umorismo che non mi ha proprio preso, anche se quella albanese riesce a tirar fuori qualche sua battuta veramente geniale, veramente satirica, veramente giusta. Lo fa con due battute, una quella dedicata al fatto che, visto che in politica si dice qualunque cosa, allora anche lui ha diritto di dire la sua e l'altra è che gli italiani si bevono qualunque minchiata, come dice lui, e quindi minchiata per minchiata, allora dico le mie, tanto se la bevano tranquillamente, anzi dice che questa minchiata è al momento giusto, nel posto giusto. Ecco, a parte queste due battute che sono perfette, sono giustissime, sono satiriche, sono molto ironiche, il resto del film non funziona, sembra quasi un insieme di piccole clip messe insieme per creare un lungometraggio, ma il film si sente da subito che ha pochissimo ritmo, pochissima inventiva, pochissime cose da dire. Quindi ne risulta anche un film, secondo me, a tratti decisamente noioso e lo dico, mi dispiace tantissimo perché il comico Antonio Albanese è un comico che io stimo in maniera esagerata, lo conosco artisticamente da circa 25 anni, dai tempi di Mai Diregol, quindi parliamo di metà anni 90, da quando aveva iniziato i suoi spettacoli teatrali, del quale ricordo il suo manifesto che è L'uomo, che vi consiglio di recuperare e guardare su YouTube, che è una cosa assolutamente geniale e vista a vent'anni in distanza non ne risente minimamente, aveva partecipato giù la testa nel circo di Paolo Rossi, insomma un comico a cui voglio un bene esagerato, ma devo dirlo proprio onestamente, questo film proprio non funziona perché il personaggio è stanco, il personaggio ha già detto tutto e non ha niente da aggiungere, quindi è un continuo ripetersi di cose già viste e riviste e poi lo schema appunto della preparazione, anche quello è ripetitivo, cioè da come deve comportarsi a tavola, come deve parlare, come deve dire, ve lo fa vedere diverse volte, quindi alla fine continuo a vedere, una cosa già vista e il film non ne guadagna, quindi come terzo capito, terzo film che sta andando comunque discreta, anzi bene, alla box office, secondo me è un film decisamente deludente e vi auguro che prossimamente Antonio Albanese riesca a tirar fuori ancora un asso dalla manica per andare oltre, perché ormai questo personaggio, che sono maschere comiche, ha dato tutto e quindi si può guardare ad altro, anche perché proprio lui si confronta con un certo la qualunque sulla politica e secondo me di margine di ispirazione sulla politica attuale ce n'è tantissimo e quindi è forse il caso di guardare l'altro. Questa è appunto una proposta, quella della monarchia, dice lui ampiamente una minchiata al momento giusto, però non è una minchiata così dirompente, così divertente. Poi il resto del film è un po' prendere qua e là degli stereotipi e delle novità degli ultimi anni per far vedere come un po' il mondo è cambiato dal 2011 quando accettola qualunque è entrato in politica ad oggi, quando lui ritorna in Italia dopo essere stato diversi anni in Germania e troviamo ad esempio il figlio Melo che è in realtà una persona molto intelligente, molto dallo stile milanese che segue dei principi decisamente diversi come le regole sulla raccolta differenziata, sull'impatto zero, su delle regole collegate all'ambiente che ha visto il personaggio che avevamo visto all'inizio in qualunque mente si è evoluto, quella è l'unica cosa forse un po' diversa, poi tutto il resto è un film veramente sciapo che ho visto per i suoi 90 minuti ma che purtroppo non mi ha preso e mi ha fatto ridere poco. Il film appunto è Cetto C'è senza dubbiamente, è uscito da una settimana al cinema, come dico sempre sia nella video recensione, nei podcast che faccio con il mio collega Pierpaolo Bonelli, se volete commentare, scrivere, fatelo pure, anzi se avete pareri diversi dal mio ovviamente scrivetelo sempre in tono civile e vi invito ovviamente a iscrivervi al canale YouTube di Cine TV Land. Per questa recensione è tutto, ciao e alla prossima!